Questo è un corso organizzato dall'Istituto Superiore Sanità assieme alla Società Italiana di Medicina Generale per illustrare quelle che sono le tematiche relative alla demenza e soprattutto quello che è il ruolo del medico di medicina generale nella diagnosi tempestiva di disturbo neurocognitivo quando è ancora in una fase lieve o minore e quindi diciamo così su cui si può intervenire con interventi di carattere preventivo e di stabilizzazione della situazione generale patologica. Molte patologie come l'ipertensione, il diabete, le dislipidemie possono favorire l'insorgenza di questo disturbo e quindi il medico di medicina generale ha sicuramente un ruolo estremamente importante nel controllare e stabilizzare queste patologie.